Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale ITV City. In apertura, come al solito, l'emergenza sanitaria. Le preoccupazioni per il vaccino AstraZeneca non firmano la campagna. Figliolo annunciato e verrà somministrato ai cittadini di 60 e 70 anni. Intanto, attore del greco ancora a ritardi sulla campagna di vaccinazione per gli ultraottantenni. Questa mattina abbiamo raccolto la denuncia di alcuni cittadini. Passiamo ora alla cronaca con la maxioperazione della Guardia di Finanza che ha sequestrato oltre un miliardo di euro. Erano proventi illiciti del sodalizio criminale fra associazioni mafiose e imprese. Passiamo ora alla politica cittadina con la bagarra di ieri al Consiglio Comunale di Torre del Greco. Facciamo il punto col Presidente del Consiglio Comunale, Gaetano Fruglio. E in conclusione l'emergenza rifiuti con le nuove disposizioni sul conferimento ai nostri microfoni, la dirigente Claudia Sacco. Questo ed altro nei nostri servizi. La preoccupazione per i vaccini non ferma la campagna. Pronta la nuova circolare con cui il Ministero della Salute ha aggiornato le raccomandazioni sul vaccino Vax Zevria di AstraZeneca. La circolare, inviata a regioni, istituzioni ed associazioni, ribadisce che il vaccino è approvato ai 18 anni di età. Sulla base delle attuali evidenze, tenuto conto del basso rischio di reazioni avverse di tipo tromboembolico a fronte dell'elevata mortalità da Covid-19 nelle fasce d'età più avanzate, si legge, si rappresenta che è raccomandato un suo uso preferenziale nelle persone sopra i 60 anni. Che ha già ricevuto una prima dose Vax Zevria può completare il ciclo col medesimo vaccino. La Commissione Tecnico-Scientifica dell'Agenzia Italiana del Farmaco rileva che al momento non sono stati identificati analoghi segnali di rischio di eventi trombotici per i vaccini AMRNA. Non è invece ancora possibile esprimere un giudizio in merito ad altri vaccini che utilizzano piattaforme vaccinali virali. E quanto si legge nel parere del CTS ha legato alla circolare il Ministero della Salute sull'aggiornamento delle raccomandazioni per il vaccino anti-Covid di AstraZeneca. Il CTS sottolinea quanto affermato anche dall'EMA, cioè che il bilancio beneficio-rischio del vaccino si conferma complessivamente positivo. Non arretra il generale Figliuolo, commissario per l'emergenza Covid, che ha dichiarato «Il piano non cambia, a fine mese dobbiamo arrivare a 500.000 dosi giornaliere. Da oggi l'inoculazione del vaccino AstraZeneca è aperta alla platea dei 60-79 anni, mentre gli under 60, che hanno già ricevuto la prima dose, riceveranno anche la seconda». L'EMA, ha sottolineato il generale, ha detto che AstraZeneca è un vaccino sicuro e spero che la vicenda si concluda così. Negli studi di TV City, Antonio Peluso, un cittadino di Torre del Greco, oggi qui per fare una denuncia in merito a ritardi nella somministrazione dei vaccini agli anziani over 80. Sì, io chiedo di sollecitare questi vaccini, almeno per le persone anziane, oltre gli 80 anni. Io voglio portare il mio problema in generale, perché ho mia madre che è 85 anni, vive con mio padre che è un disabile e tre volte a settimana fa la terapia di alisi. E quindi è un disabile che viene preso, prelevato da casa tre volte a settimana e lo portano in clinica a fare la dialisi. Quindi è una persona a rischio. Però noi avevamo prenotato, a mia madre, perché mio padre l'hanno prenotato la clinica stessa, si sono presi loro l'incarico, essendo un loro paziente, e ce l'hanno prenotato al lab di Mnola, l'hanno vaccinato un dieci giorni fa. Noi siamo ancora in attesa di poter vaccinare mia madre che ha 85 anni e vive con mio padre in casa, a rischio che può essere contagiata. Però fino adesso non è arrivata ancora nessuna notifica, diciamo così, a riguardo. Ancora ritardi e polemiche sulla campagna vaccinale degli over 80 a Torre del Greco. Diverse le segnalazioni alla redazione di TV City di familiari di anziani preoccupati e in attesa della convocazione per i loro cari. Tempi lunghi anche per quelli che hanno richiesto la vaccinazione presso il proprio domicilio. Tempi che ora dovrebbero ridursi con l'apertura alle vaccinazioni anche presso gli studi dei medici di medicina generale. Non mancano gli appelli ad amministrazione comunale ed ASL per velocizzare le procedure. Secondo lei un territorio grande come quello di Torre del Greco avrebbe bisogno di più centri vaccinali? Sì, perché noi pensate che io l'ultima volta che ho visto intervista del nostro sindaco diceva che al laboratorio dell'Annunziata si facevano quasi 200 vaccinazioni al giorno. Essendo l'unico laboratorio a Torre io penso che con un'intensità di popolazione 85.000 abitanti per poter poi vaccinare tutti ci vorrebbero una media, io ho fatto più o meno i calcoli, due anni, due anni, tre anni e siamo molto molto indietro. Io mi auguro che la nostra amministrazione comunale possa velocizzare queste cose è aprire più centri, anche perché un solo centro per il nostro territorio, che è molto vasto, però è che le persone hanno difficoltà ad arrivare. Io mi auguro che il sindaco faccia di più con il dottor Schiavo, che si rendano conto che Torre del Greco ha bisogno di essere velocizzata nei vaccini e di aprire qualche centro in più. Posso anche capire che c'è la problematica dei vaccini, che anche a livello nazionale, diciamo così, ci sono dei problemi come, diciamo, che ci mandano questi vaccini così. Però io faccio questo appello al sindaco. Adesso l'ultima intervista ho visto che sono stati messi anche dei medici di base per fare queste vaccinazioni, però non tutti i medici di base hanno aderito e quindi automaticamente chi ha il medico di base che ha aderito potrebbe avere l'agevolazione, ma chi non ha il medico di base andrebbe nelle difficoltà di aspettare. Quindi io penso che questa battaglia si vince solo con le vaccinazioni. E prima si fanno le vaccinazioni, prima ne usciamo. I finanziari dei comandi provinciali di Napoli, Roma, Catanzaro e Reggio Calabria, unitamente ai finanziari dello Scico e ai Carbinieri del Ros, coordinati dalle rispettive direzioni distrettuali antimafia e dalla Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, stanno dando esecuzione a provvedimenti cautelari a carico di una settantina di persone responsabili di associazioni di tipo mafioso, riciclaggio e fraude fiscali di prodotti petroliferi. Contestualmente sono in corso sequestri di immobili, società e denaro contante per un valore di circa un miliardo di euro. L'operazione secondo quanto si è appreso è frutto di quattro diverse indagini, coordinate dalle diverse procure antimafia di Catanzaro, Reggio Calabria, Napoli e Roma e dalla Direzione Nazionale Antimafia. Le indagini sono confluite nella maxi operazione alla luce del fatto che avevano ad oggetto le stesse dinamiche criminali, anche se con soggetti coinvolti diversi. Sul fronte anticamora hanno operato la DDA di Napoli e Roma, a mezzo di indagini rispettivamente sul Cammoccia e sulla Max Petrol SRL. Tra le indagini condotte dalla DDA di Napoli, negli ultimi 15 anni su Moccia, quella odierna mette in luce le più attuali evidenze degli interessi dei Moccia nell'economia legale, in particolare nel settore strategico dei petroli. Questa attività prende le mosse nel 2015 da un'indagine del GICO della Guardia di Finanza di Napoli, su delega della DDA Napartenopea, che riguardava inizialmente rilevanti investimenti del clan Moccia nei settori dell'edilizia e del mercato immobiliare. Attraverso una serie di operazioni societarie, il gruppo è entrato in rapporti con la Max Petrol SRL di Anna Bettozzi, che aveva ereditato l'impero di Sergio di Cesare, noto petroliere romano. La Bettozzi, trovandosi a gestire una società in grave crisi finanziaria, grazie alla conoscenza di Coppola, era riuscita a ottenere forti iniezioni di liquidità da parte di vari clan di Camorra, tra cui quelli dei Moccia e dei Casalesi, che le avevano consentito di risollevare le sorti dell'impresa, aumentando in modo esponenziale il volume d'affari, passando da 9 milioni di euro a 370 milioni di euro in tre anni. Il successo imprenditoriale consentiva inoltre agli indagati di mantenere un elevato tenore di vita, fatto di sontuose abitazioni, gioielli, orologi di pregio e auto di lusso. Per la raccolta delle ingenti somme liquide derivanti dalla frode, il clan Moccia si avvaleva di una vera e propria organizzazione parallela, autonoma e strutturata, alta al riciclaggio di elevate risorse finanziarie, gestita da colletti bianchi, attiva sia sul territorio partenopeo che su quello romano. Come emesso dalle indagini napoletane, la rilevanza dell'incipiente business dei Moccia nel settore degli oli minerali, nel quale quel clan era diventato egemone, proprio grazie ai prezzi super competitivi ottenuti grazie alle frodi, provoca reazioni anche violenti da parte di altri clan della Camorra. Alberto Coppola subisce due attentati con esplosioni di colpi di pistola, a seguito dei quali non esita a chiedere aiuto al suo referente parente Antonio Moccia, che si attiva. Ne consegue una PAX mafiosa, imposta dai Moccia, e suggerata con la cessione di una quota dell'impianto di carburanti al clan Mazzarella. Bagari, ieri, durante il Consiglio Comunale di Torre del Greco, per l'approvazione del bilancio, cosa è successo esattamente? Facciamo il punto col presidente Gaetano Fruglio. Ieri è accaduto quanto purtroppo avevamo notato nelle sedute precedenti di Consiglio Comunale, cioè un disordine quasi organizzato da alcuni consiglieri comunali, che ahimè, devo notare, non hanno sicuramente consentito l'ordinato svolgimento dei lavori consigliari, impedendo non soltanto la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, di fatto, perché per circa tre ore è perdurato questo stato di confusione e di bagarre, come ti ho detto prima, ma soprattutto non hanno consentito al sottoscritto di poter cercare di portare avanti quanto previsto dal nostro regolamento, e quindi l'ordinato svolgimento dei lavori previsti dall'ordine del giorno e dall'integrativo. In questa occasione, nonostante i più volte sollecitati ad avere un atteggiamento meno ostruzionistico rispetto a quello messo in campo, purtroppo ieri si è arrivati nuovamente e in maniera ancora più determinata ad una confusione che ha creato sicuramente quel turbamento che poi, ahimè, ha previsto di mettere in campo tutte le facoltà che mi sono concesse, e quindi purtroppo allontanare anche un consigliere comunale dall'aula, utilizzando a quel punto anche la presenza delle forze dell'ordine. Era una polizia municipale a quale ho dovuto invitare ad accompagnare il consigliere all'esterno. E cosa prevede questo bilancio? Il nostro bilancio fondamentalmente è un bilancio prettamente tecnico, ed è vero. È figlio di una riflessione fatta dalla maggioranza quando vi erano alcuni altri assessori. fu elaborato con le indicazioni di quegli assessorati. Abbiamo preferito mantenerlo in questo modo, anche perché il bilancio si chiama un bilancio preventivo che prevede e sicuramente siamo già in corso di attuare una serie di rivisitazioni dello stesso bilancio, che oggi ci permette di utilizzare tutte le risorse dell'amministrazione. Siamo qui ai Mulini-Marzoli, già parliamo della rivisitazione e del ripristino della palazzina ex protezione civile che è alle spalle, ma stiamo guardando all'allargamento della strada della Giovanni XXIII nella parte che conduce direttamente alla Villa Leopardi. Ancora di più stiamo immaginando di finanziare in maniera importante la progettazione preliminare di una serie di opere che noi riteniamo fondamentali, che sono un pochettino il fulcro di questa amministrazione. Una su tutte, per esempio, la progettazione sulla portualità, perché ad oggi abbiamo il PUC in corso, abbiamo già approvato lo strutturale, una parte dell'operativo, dobbiamo fare ancora altri ulteriori passaggi, mi limiterei a dire burocratici a questo punto, fino ad arrivare ad adottarlo definitivamente in Consiglio Comunale. E questo strumento ci consente di pensare ad una serie di progettazioni preliminari, alcune potrebbero essere addirittura definitive, su delle opere che stanno aspettando da tantissimo tempo. con la città, vedasi la bretella, terminare il collegamento della Pedemontana, che corre intorno al cono del Vesuvio, o ancora quello che dicevo prima, il porto, che per me ha una valenza fondamentale rispetto a tutto quello che ci stiamo dicendo. La cittadella dello sport ritengo che adesso bisogna fare, poi il futuro ci dirà se abbiamo fatto bene o meno. Questa è un'amministrazione che sta cercando di preparare veramente il terreno, perché per realizzare le cose purtroppo ci vuole tempo, gli ostacoli sono tanti, ma si stanno cercando di preparare veramente il terreno alla realizzazione di un'altra torre del Greco, differente rispetto a quella che conosciamo oggi. Perché questa opposizione così forte? Da qualche tempo a questa parte, devo dire da quando la maggioranza si è rivisitata, alcuni consiglieri comunali passati a questo punto in opposizione hanno alzato i toni in maniera, a questo punto, inaccettabile. Fino alle conseguenze che abbiamo potuto vedere tutti ieri. Veramente bisogna arrivare ad alcune azioni o conseguenze rispetto a quanto messo in campo dall'opposizione per poter avere un proseguo dei lavori che sia quantomeno accettabile. Una risonanza maggiore anche per le modalità di diffusione della seduta? Non vorrei che da alcuni sia stato tradotto alla presenza del mezzo televisivo e della trasmissione streaming o sui canali del digitale terrestre come uno show, un momento in cui apparire in una maniera o nell'altra, qualcuno forse pensa essere positivo, apparire urlando e imponendosi, alzando la voce, ma non capiscono che questo squalifica prima se stessi e poi tutti quanti noi. Per cui ritengo importante lo strumento televisivo e il trasferire all'esterno quanto più è possibile i lavori dell'amministrazione e del Consiglio Comunale. Però di contro devo dire che rivedessero le loro posizioni in maniera determinata e piena i consiglieri comunali che invece stanno traducendo questa presenza per un momento di esposizione al pubblico, che assolutamente ad oggi non è positivo. In avvento del genere quanto può minare la fiducia ai cittadini nei confronti delle istituzioni e dei loro rappresentanti? Sicuramente la città rimane basita quando vedono comportamenti del genere e mi rendo conto, mi raccontano di, io non sono un internauta, però mi raccontano di commenti fatti in più occasioni, sicuramente negativi rispetto a tutta quanta la classe politica e purtroppo ieri, devo dire, se la sono e ce la siamo proprio cercata. Dottoressa Claudia Sacco, nuova ordinanza per il conferimento di rifiuti nei condomini. Una nuova ordinanza che revoca quella emanata circa un anno fa nel mese di marzo alla partenza del servizio porta a porta. In effetti non abbiamo grandissimi cambiamenti, ma attese di difficoltà affrontate nell'anno, le polemiche e anche il contenzioso che si era aperto con una grande fetta di amministratori di condominio della città di Torre del Greco, a seguito di una serie di tavoli di concertazione con l'assistenza del nostro legale e con il legale della controparte siamo giunti alla nuova ordinanza. Le modifiche sostanziali sono queste. I condomini e comunque tutti quegli immobili con utenze superiori a 6 continuano ad avere l'obbligo del ritiro dei carrellati, sempre in un numero idoneo. Numero idoneo significa che non devono essere un numero di carrellati per ogni frazione di rifiuto, ma laddove non ci fosse spazio ci potrebbe essere anche un cassonetto unico che viene utilizzato quando abbiamo, per dire, umido e multimateriale, verrà utilizzato per l'umido e il multimateriale verrà appoggiato a terra. Quando abbiamo secco e vetro verrà utilizzato per il vetro, quindi un cassonetto jolly. Al momento della consegna verrà fatto un sovralluogo che verrà verbalizzato con l'ufficio tecnico del Comune di Torre del Greco, la Butol, e un rappresentante del condominio. Si stabilirà anche su area pubblica dove devono essere posti i cassonetti la sera, cassonetti che dovranno poi sempre essere ritirati all'interno dei condomini durante il giorno. La novità è che sui carrellati vengono apposti dei QR code, come avevamo già anticipato nei giorni scorsi, in maniera da renderli ben attribuiti ad un determinato condominio. Quindi, in sostanza, le novità sono queste. Permane l'obbligo da parte dei condomini di ritirare i cassonetti. Grazie per la cortesa attenzione. Per info e segnalazioni potete contattarci alla mail redazione chiocciolatvcity.it o al numero di telefono 340 65 61 484. E con questo è veramente tutto. Io vi do l'appuntamento a domani con altri servizi. Grazie a tutti. Grazie. Autore dei sorrisi